ciao a tutti io sono nell'irfa e oggi mi trovo su once human continuiamo con le video guide per capire al meglio questo gioco dunque allora oggi mi trovo all'avamposto gli avamposti sono questi segnati in mappa con una grossa goccia e sotto una ruota meccanica e di colore blu dunque qui possiamo trovare diversi npc che ci vendono alcune cose quelle che ci vengono le cose sono quelli con in testa il cestino invece questo qua per esempio che vedete che c'è una specie di block notes e questo ci dà delle missioni da fare che sono molto interessanti perché ci danno parecchi punti per andare a sbloccare le ricette allora io adesso ho fatto già queste quindi le vado a claimare e vedete che ci dà anche esperienza e poi altri oggetti quindi andiamo a fare così e qui abbiamo quelle nuove quelle nuove da andare a prendere ci conviene farlo perché vedete che sono veramente molto remurative perché ci danno queste energie link energy link che servirà proprio per andare a sbloccare tutte le ricette nuove quindi vedete che cita tantissimi punti queste energy link li prendiamo anche andando a completare le quest normali però così tante non le prendiamo quindi ci conviene fare questa cosa allora per esempio andiamo a fare lo smelting perché ce l'ho in base poi vedete che qui c'è il livello quindi prendiamo questa poi possiamo anche fare la preparazione di piatti questa il riciclo che sicuramente poi andremo a fare e anche questa va ucciditi e 30 nemici da lontano qui credo che possiamo prendere al massimo 4 vediamo no in realtà ne possiamo anche prendere di più possiamo prendere 5 per volta ora facciamo il tasto j e andiamo in task sarebbero tutte le nostre missioni e vedete che si chiamano commissioni e qui trovo quelle che ho appena preso un modo efficiente per andare ad accumulare energy link e quello di andare a fare i silos eccoli qui si chiamano silo bisogna essere in gruppo per poterli fare un gruppo da quattro e vedete che come ricompense danno appunto gli energy link quindi ne troviamo di quattro livelli diversi iniziamo dal livello 15 25 30 e 45 un altro metodo semplice per andare a fare energy link è quello di andare a vendere dagli npc che abbiamo visto prima tutto quello che andiamo a craftare o che abbiamo non provare a craftare i dagger i dagger vengono pagati abbastanza bene quindi abbiamo tutti i materiali poterlo fare e andremo fare al massimo facciamo le 12 e poi andremo a vendere nel pc ci daranno parecchi e punti energy lo possiamo poi provare a fare anche il piccone di bronzo da andare a vendere ma anche la carne di cinghiale sarà molto utile a questo proposito perché possiamo andarla a vendere con un buono scambio di energy link allora facciamo sell quindi andiamo a vendere e vedete che per i dagger ovviamente ne dobbiamo farne tanti se io non avevo i materiali ci da 8 punti di energy per ogni dagger quindi andiamo a venderli due e per quanto riguarda le pickaxe vedete di bronzo ce ne dà ben 100 quindi conviene farli di bronzo e invece per il steel addirittura a 200 ovviamente più sono up gradati più punti prendiamo quindi dobbiamo farne un bel po e venderli gli energy link ci serviranno anche per andare a utilizzare i teletrasporti quindi è molto importante andarli a farmare ok ragazzi per oggi è tutto se avete delle domande fatele qui sotto nei commenti vi ringrazio per la visione come sempre in cambio vi chiedo un bel mi piace e naturalmente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale perché arriveranno nuovi video ciao e alla prossima ciao 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 ciao